è arrivato è arrivato eccolo hai visto hai visto quando ma dove ma quando dai che ti aiuto io mi fai morire ciao ragazzo è così che si fanno le zone anche io ne ho già fatte troppe ambe tra l'altro io la travasiamo dal mio serbatoio link quando l'aria ti viene un crimpio ma va il certo il tempo che sono arrivato tac dov'è? dov'è? si è scappato non ti ascolti che sono concentrato adesso sono arrivato sei ingrippato in zona basta